7 arresti, 5 denunce, un locale sottoposto a sequestro penale e oltre a 260 grammi di droga sequestrata. Sono questi gli esili degli incessanti controlli effettuati dalle forze dell'ordine nella zona dell'isola pedonale e delle vie limitrofe del Pigneto, su disposizione del questore Nicolo D'Angelo. Durante le perquisizioni di controllo sono state identificate oltre 200 persone, 35 delle quali straniere accompagnate all'ufficio Immigrazione della Questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale in quanto prive dei documenti. Due di queste al termine dei controlli sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato poiché a loro carico pendeva una condanna per reati inerenti gli stupefacenti, mentre quattro sono quelle accompagnate presso il CIE di Ponte Galeria per l'espulsione dal territorio nazionale. Arrestato poi il barista di un locale, il quale è stato trovato in possesso di hashish, cocaina e 3.000 euro in contanti. L'uomo, un 38enne romano, utilizzava l'esercizio commerciale come copertura per la sua più remunerativa attività di pusher. 25 gli esercizi pubblici controllati nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 13.000 euro. Denunciato all'autorità giudiziaria e al titolare di un internet point per favoreggiamento della permanenza di un clandestino sul territorio nazionale. Bloccato poi un 50enne di origine napoletane, autore del furto di un furgone in una via poco distante, l'uomo è stato però raggiunto e fermato dai poliziotti. Individuato e arrestato in oltre un 44enne rumeno, sorpreso a dimorare in un hotel della città e a carico del quale pendeva un mandato di arresto per scontare una pena di un anno e 5 mesi di reclusione. A finire in manette anche un 35enne rumeno, l'uomo inizialmente denunciato per recettazione in quanto trovato in possesso di un telefono provento di furto, è stato accompagnato in carcere per scontare un cumulo di pene residue per reati predatori. Proprio in piazza del Pigneto, inoltre grazie al fiuto di cani antidroga del reparto cinofili della Questura, gli agenti hanno individuato e sequestrato circa 260 grammi tra hashish e marijuana, nascoste tra gli alberi o in terra sulla stessa isola pedonale. Grazie a tutti!